salve a tutti ragazzi video misterioso registrato in inghilterra guardate ragazzi questi oggetti non identificati che camminano tranquillamente guardate adesso sono due oggetti prima ne erano di più veramente non si capisce nulla ragazzi quindi un video veramente molto insolito guardate adesso gli oggetti sono due e stanno tornando indietro ma guardate qui ce ne stanno uno due tre quattro che sono allineati in piedi ma sinceramente ragazzi qui veramente non si capisce più nulla due sono bianchi quattro sembrano rossi tre ma non lo so quattro sì sì ragazzi sì perché voglio provare a ingrandire ecco qua sì in effetti questi due a sinistra sono bianchi invece questi quattro uno due tre e quattro sono rossi non lo so ragazzi che diavolo è fatto cosa che purtroppo sono più che reali quindi li vediamo proprio per capire meglio anzi per cercare guardate qui tre quattro cinque sei oggetti tornano indietro e diventano due ecco qui adesso sono due ritornano un'altra volta indietro e ce ne stanno quattro che sono allineare allineati verticalmente quindi non lo so ragazzi qua più si va avanti e peggio e quindi non lo so che diavolo succede eccoli dai ragazzi quattro allineati rossi non lo so ragazzi come sempre lasciate il vostro commento il vostro giudizio e come sempre dico ragazzi al prossimo video ma soprattutto ragazzi al prossimo mistero